Davide Morrone, e allora non c'era bisogno della riconferma ma è arrivata ufficialmente da parte della società, ha confermato allenatore, il pensiero va al prossimo anno, in che modo? Nello stesso modo che abbiamo iniziato l'anno scorso, praticamente dobbiamo fare bene, dobbiamo fare bene per noi, per la società e soprattutto per la gente di Riccia che viene sempre in massa a seguirci sul campo. Ecco diciamo, un ragazzo che vuole bene a Riccia, più di te forse è difficile da trovare, visto che oltre al calcio ti sei cimentato in altre avventure, quella politica per esempio, che non è andata bene, però si dimostra grosso attaccamento al territorio. Non è andata bene, però partendo da zero abbiamo raggiunto anche lì un ottimo risultato, arrivando al 46%, adesso siamo in minoranza, facendo una minoranza costruttiva, però stando sempre sul chi va là per vedere quello che succede in maggioranza. Senti, Riccia sempre ambizioso anche il prossimo anno? Sempre, la nostra filosofia è quella, sempre per giocare per vincere e per divertire, difenderci non è il nostro stile di vita, quindi giocheremo sempre all'attacco, sempre giocando bene e facendo divertire la gente che viene al campo, come l'anno scorso la partita in casa con Lisernia, penso che è stata l'emblema di tutto il campionato. Perderete qualcuno per motivi lavorativi, ma l'ossatura di base è quella della squadra, sempre nel segno dei prodotti del posto. E quella è la cosa più bella e importante che è la nostra società, vorremmo puntare sempre sui nostri giovani in primis e poi puntellare la squadra con gente più esperta, con gente che ti fa fare il salto di qualità per poter restare aggrappati al treno di vertice fino alla fine. Negli ultimi anni c'è stato qualche problema nella composizione, se non ricordo male, proprio del campionato di eccellenza. Quest'anno da cosa si dice fra voi addetti ai lavori? Ci saranno gli stessi problemi oppure si può andare verso una composizione più spedita? Secondo me andrà in una composizione più spedita, perché oramai le società hanno capito i problemi fatti nel passato e adesso stanno tutte rigando dritti, secondo me. Comunque i problemi ci stanno in tutti i paesi, visto lo spopolamento delle aree interne, quindi trovare ragazzi che giocano a calcio è difficile rispetto a tanti anni fa. Trovarli è difficile, quando si trovano a volte regna un po' di apatia, questo è un altro problema fra i ventenni attuali, non fra tutti ovviamente, però molti addetti ai lavori ci raccontano anche di questa problematica. Ma questo non lo stiamo vivendo tanto a Riccia, perché comunque chi gioca a Riccia e di Riccia è tanto attaccato, sia la maglia che la società, quindi anche l'allenatore lo possono dire anche i ragazzi, questo è un vando che mi faccio da solo, comunque è così, non sono apatici perché alla fine vengono sempre al campo, stanno lì, stanno con noi sempre, pure la sera quando usciamo siamo sempre insieme, quindi non è un problema che tocca la nostra società.